E' lo stesso. E' un po' patente. Beh, ma metti a fuoco adesso su uno davanti e poi dopo fai lo zoom indietro e sei sicuro che è tutto a fuoco. Cioè quando ce ne esce qui davanti metti a fuoco a uno, proprio qui sotto. L'ho messo a fuoco, ma c'è poco tempo per farlo. Ah, per farlo zoom. Facciamolo zoom pasto, ti metto. Grazie. 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 Dopo magari alla fine ti giri, prendi là con il castello, poi dopo andiamo giù. Il piano è un'altra, 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 poi dopo andiamo giù. Per il piano è un'altra, poi laptop. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 E faccio romantica, che è mai più fina, che melodia d'amore, che faccio di te. E faccio romantica, che è mai più fina, che melodia d'amore, che faccio di te. Secondo preme, oreiello, 20 altri, 30. Non ci vedrete, a un giorno per una festa a fall'occhiale. Precare una cartoccia. Non ti senti il tasto in braccia, non ti vado chi sta faccia, non ti stringo forte in braccia a me. Ma scettando mia sti sulle, mi fa piangere perché hai vita.